Sono sempre nei confronti, giustamente, dell'unica parte politica, l'unico partito politico per spazienire la sua voce che dalle destra il proprio distretto. E su queste cose qua ci vuole rispetto, da parte tua, per te, che tutti consigliano. All'unico in teatro, no se posso, e nell'intervento, nell'impatto annuncio, quando si avessi trovato su ci vuole, non è che non mi gerai, come su questo altro. E' un'attività, come si può dire, anche l'adulto, a tecmo un po' amudato da noi, che adesso ci sono una gareia, che non la più non si giudano. Quello che si parla, e io non vorrei a rispondere a questo vino, ci sta parlando questa idea, proprio che i regolamenti non vissuti, proprio che si stanno vissuti. Quello non lo ricorda nulla, apprezziamo di loro, ma non lo ricorda nulla che non hai il coraggio. Perché quando si ha il coraggio, ci puoi sapere che tutte le scelte pante, tutte le indicazioni di arte, erano sempre la volontà di funzionamento, o la volontà di appartenza, se stai a vedere, ci lascia a vedere da dire, si trovano delle uccide gigantesche, in termini di geni, in termini di assessori, in termini di generale, la nostra è stata una volontazione politica. Noi ci siamo distinuti e ci siamo distaccati su quello che erano le scelte, perché questa è stata una volontazione, aveva portato avanti il chiuso di mazzare, senza la dovuta partecipazione e il nostro confronto. Vi voglio provare, tutte le scelte, la scelte, erano... ...ehm... ...l'anima, l'anima, 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 l'anima. Facendo intendere che questa migliorazione sulle nomine procede andando da recuperare la sua luna, è una, 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 enorme, quanto una montagna. Ben a parte la canzone da più valentità e anche i suoi successi, con luce, perché quando è stata la boccia di un grande, noi gliel'avevo tornato tutti i giorni, e comunque è che la cattoria, con questa città del bocciato, l'avamo salendo, ma l'infermita, prima del giorno. Anni li abbiamo ricordato che quando non arriva, non arriva, non arriva, un portafoglio del comune, cioè le famose prevence che noi abbiamo smuggiato, con l'occhio socialista, 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 quando conoscevo la riferente di nove consiglieri voti, lui è stato uno stretto a lasciare un consiglio con l'altro, e se ne è rimasto, lo mettiamo uno solo, perché gli altri, come fatto anche in questa amministrazione, in questa consiglia tutta, saranno a posizionare, raccontendosi tutti bene il Paese, come abbiamo sentito la ricerca, cioè non si è che avanti, non mi parla di un'arriano, non è che avanti a fondo, non si è che avanti a parte, non la gente non è che, non si sa, questo è la città, il concetto. Allora, dove si è con l'occhio socialista? Non condividiamo l'indossazione di superare, il verbo che è stato portato avanti è il fatto che continuamente, su quale c'è la ricerca città? Questa è il movimento dei 15 anni dalla città, continuo a riferirizzare in male quantità, ma a traspare che non stavano a riferirizzare la città? non è l'occhio, io non credo! Ma non credo, non credo che ne siamo riferiti di nuovo perché come la libertà, ma non c'è da riferirizzare! Lo so che voi, non credo... non credo non credo! che si è con l'occhio. Non credo che non credo, non credo che non credo che non credo, non credo che non credo, non credo che non credo che non credo. E' certo di dirci, a voi. C'è un'altra strada. Adesso che mi puoi dire a tutti. E' il consiglio, è il consiglio di averla condizione. Gede in mente, allora. Gede in mente, non allucciamo la liberale validezza. E' il consiglio di essere a concesso, e' il consiglio di essere a concesso per i propri. Quando c'è la prima, è la mia rete. Volevo dire, non basta di rinunciare, di affermare, di queste cose come di te. Noi dovete vedere quando Uruguay è iniziato in tutti questi elettoranti. Noi abbiamo un nuovo modo, perché abbiamo assistito alla proposta, alla proposta del popolare quando ha trovato le nostre macchie. Non si era venuto. Abbiamo trovato dentro un prezzo. Tutti i cari suoni e costretti i contatti. E c'era questo, fino a un anno, giustamente, perché non lo hai chiesto. Poi, c'è stato un risparmato, anche perché c'è stato un risparmato. Abbiamo visto come un risparmato, è stato rimagato. Ed era, giustamente, stato votato al poliziere russo. Però, questo era il marito del sistema che è tutto. Vogliamo, vogliamo contartene. Però il fatto che ci venga, che vanno a mezz'io per la vostra, solo un discursivo a mezz'io, tutto per andare su una mia città. E' un'altra cosa che ha fatto. E' un'alternativa a te, a un po' di te, in questo comune, in questa città. Per il nostro dom相vivo delle rolle giuste. E' un progetto, il sistema è molto vero. E' un posto, ma partita è un progetto. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie a tutti. A mezz'io. A mezz'io.